Nel video nel quale vi ho parlato della teoria dei colori vi ho mostrato un sito web molto interessante che si chiama Paletton e giustamente voi mi avete chiesto poi da quel video come si possono applicare le varie palette di colore ad un'immagine per ottenere quindi dei filtri fotografici bene vediamo oggi all'interno di questo video come applicare una color correction ad un'immagine semplicemente partendo da dei colori che ci piacciono o che appunto vogliamo utilizzare all'interno di quell'immagine ho selezionato quindi questa fotografia di paesaggio un'altra comunque di paesaggio e poi una foto di ritratto semplicemente per farvi vedere che funziona su tutte le immagini quindi non c'è una specifica o un particolare requisito di cui tenere conto andiamo quindi sul sito Paletton se non avete visto da quel video come funziona Paletton vi invito a rivederlo ma vedremo anche brevemente in questo video come funziona innanzitutto come possiamo iniziare a definire la nostra color correction mettiamo caso che noi vogliamo applicare una color correction a questa immagine noi dobbiamo trovare due colori che stiano bene con il colore predominante di questa immagine giustamente qual è il colore predominante di questa immagine? il verde sì ma quale verde? ovviamente possiamo scoprirlo subito mettiamo caso quindi che vogliamo scoprire qual è il colore predominante di questa porzione dell'immagine che comunque andrà bene rispecchiandosi in tutto il resto dell'immagine effettuiamo una selezione di questa porzione premendo il tasto M della tastiera che ci avvia quindi il tasto selezione rettangolare qui al lato effettuiamo una selezione con la tavoletta grafica o col mouse al metodo che utilizzate e poi ci effettuiamo una copia di questa porzione quindi premiamo il tasto Command o Control J da tastiera abbiamo quindi un livello con solo questa porzione dell'immagine adesso operazione molto importante premiamo il tasto Control e lo teniamo premuto Control o Command ovviamente se utilizzate Windows o Mac e facciamo un click con il tasto sinistro del mouse questo ci riattiverà la selezione del livello e semplicemente dobbiamo lanciare un filtro sfocatura media questo prenderà tutti i pixel presenti all'interno di quell'immagine della selezione semplicemente li sfogherà in maniera omogenea e come potete vedere abbiamo quindi che questo è il colore predominante dell'immagine diverso ovviamente nel caso in cui avessi fatto la stessa cosa su quella che è tutta l'immagine dato che ovviamente includiamo anche il colore del cielo e della strada quindi come potete vedere il tono comunque sarà molto simile bensì otteniamo semplicemente un colore più chiaro quindi torniamo all'immagine e riabilitiamo il colore adesso dobbiamo campionare questo colore e scoprire qual è il codice di questo colore quindi semplicemente premiamo il tasto B da tastiera e poi premiamo il tasto Alt che ci attiva il campionatore o semplicemente possiamo selezionare il campionatore o il contragocce con il tasto I o semplicemente da qui al lato e andiamo a campionare questo colore leggiamo le informazioni del colore le possiamo leggere sia premendo qui in basso e ci aprirà quindi il codice oppure semplicemente andando nel pannello informazioni ci mostrerà i valori di RGB ovviamente se apro questo menu semplicemente vado a prendere il codice del colore che è sempre un codice a 6 cifre me lo copio vado su Paletton e me lo incollo nella base RGB quindi questo è il mio colore di partenza come potete vedere è lo stesso e adesso quindi ho questo colore e devo andare a scoprire quali sono magari dei colori che possono stare bene insieme a questo colore innanzitutto noi stiamo definendo questo è il colore primario e poi abbiamo i colori secondari adiacenti quindi con più saturazione, più luminanza ecc e dobbiamo ad esempio andare a scoprire due colori che possono stare bene per applicare una color correction o magari a noi piace ad esempio aggiungere dell'arancione opposto all'arancione vi è il ciano o il blu e semplicemente quindi abbiamo già due colori di partenza però come potete vedere appunto questi colori sono molto scuri noi possiamo utilizzarli comunque per applicare la color correction ma per garantirci delle varianti di colore teniamo premuto il tasto shift e spostiamoci diciamo un punto che sia quello presente diciamo sulla parte destra per quanto riguarda la parte più scura ma appunto è indifferente perché semplicemente se facciamo la stessa cosa qui andrà a cambiare semplicemente il colore di un altro quadratino quindi possiamo spostare qualsiasi colore lo portiamo diciamo con più saturazione e facciamo la stessa cosa con un altro così da avere vedete diverse tipologie di colori quindi abbiamo un colore più saturo un colore meno luminoso un colore più luminoso eccetera quindi poi possiamo semplicemente ovviamente continuare a cambiare i colori se ad esempio a quell'immagine noi vogliamo applicare non so un arancione e un diciamo questa sorta di color verde acqua petrolio ci sta bene applicare questa color correction all'immagine cosa facciamo? andiamo su export quindi semplicemente esportiamo il color swatches e lo esportiamo come png adesso ci mostrerà la paletta semplicemente tasto destro salva immagine con nome la salviamo sul desktop ovviamente il nome è indifferente ritorniamo su photoshop e prendiamo la nostra palette dal desktop e la portiamo sull'immagine diamo un tasto invio ovviamente possiamo eliminare il livello che ci mostrava appunto qual è il colore mediano dell'immagine e ci spostiamo la palette qui in alto come potete vedere quindi abbiamo il colore primario della fotografia e poi abbiamo i due colori che possiamo applicare come color correction adesso ci sono due metodi per applicare la color correction all'immagine il più veloce e il meno macchinoso è sicuramente l'applicazione di una mappa sfumatura se appunto creiamo un livello di regolazione mappa sfumatura e andiamo sulle proprietà del livello e premiamo all'interno delle proprietà due volte sulla mappa o meglio sul gradiente che ci ha creato semplicemente andiamo noi a definire quali sono i colori che devono caratterizzare questa mappa sfumatura adesso possiamo semplicemente campionare il colore che vogliamo assegnare alle ombre che ad esempio è questo qui ovviamente possiamo scegliere diversi tipi di luminanza del colore perché questo appunto in base all'immagine ci permetterà di avere un effetto un po' più forte e meno forte quindi considerate che se il colore è più scuro sarà meno presente l'effetto se è più chiaro sarà più forte e presente l'effetto quindi potete anche essere creativi in questo modo diciamo che vogliamo applicare una tonalità media non troppo forte e quindi mi sta bene questa tonalità del colore diamo un ok ovviamente questi sono solo valori indicativi nel senso che se io voglio modificare questo colore a piacimento lo posso poi fare quindi semplicemente per far vedere come da un colore di partenza posso utilizzare dei colori che armonicamente stanno bene all'interno di un'immagine diamo un ok andiamo adesso sul valore qui a destra e campioniamoci il valore invece che vogliamo assegnare alle alte luci perché qui stiamo rappresentando da 0 a 255 valori quindi semplicemente anche qui possiamo applicare valori scuri che in realtà andranno a spegnere le alte luci o dei colori molto luminosi che semplicemente andranno ad accentuare o meglio saranno più presenti sulle alte luci quindi scegliamo questo arancione bello forte diamo un ok abbiamo la nostra mappa sfumatura premiamo ok l'unica cosa che ci resta da fare adesso è scegliere il nostro metodo di diffusione che più ci piace per applicare la color correction a questa immagine possiamo andare ad esempio ad utilizzare il metodo colore possiamo utilizzare il metodo luce lineare possiamo utilizzare luce soffusa ma ovviamente non sarà questo l'effetto perché dobbiamo poi ridurre l'opacità dell'effetto stesso e come potete vedere ci va in realtà poi a restituire un effetto molto diverso perché ovviamente io sto applicando del verde su del verde quindi me lo vado ad accentuare poi sto applicando dell'arancione su un valore molto chiaro che si vede appunto dove è meno presente la luce quindi qui si vede ad esempio sulla strada ma non si vede nel punto più bianco infatti poi dobbiamo giocare con i vari livelli della mappa sfumatura perché altrimenti non sarà applicata come il color correction in questo modo quindi se mi riapro la mappa sfumatura ad esempio la lascio comunque in luce soffusa mi riapro la mappa sfumatura semplicemente proviamo a cambiare il tono delle luci e vediamo cosa succede quindi possiamo applicare questo colore questo colore, questo colore o appunto giocare un po' con questi che sono i colori che abbiamo scelto e possiamo poi diciamo andare ad accentuare il colore stesso quindi se vogliamo un colore più forte semplicemente portiamo la saturazione al massimo in demo possiamo fare per le ombre infatti per le ombre io le andrei a scurire così da avere diciamo una predominanza delle alte luci come potete vedere quindi più lo aggiungo più si aggiunge all'immagine più lo rimuovo e meno è presente all'interno delle ombre come potete vedere ovviamente abbiamo già una color correction con una predominante che più si avvicina a questi colori ma ricordate che questi colori sono semplicemente indicativi perché nessuno vorrebbe ovviamente applicare a un'immagine i colori in questo modo quindi qui abbiamo i colori effettivamente originali ma dobbiamo fonderli e ridurre l'opacità perché ovviamente altrimenti risulterebbero poco naturali quindi questa è l'immagine di partenza questa può essere l'immagine con la color correction ma ovviamente posso anche avere questa color correction posso avere non so l'immagine in luce puntiforme con un metodo di fusione sovrapponi posso avere il colore più chiaro, il colore schermo quindi stiamo applicando dei filtri all'immagine diciamo in maniera appunto molto veloce proviamo ad analizzare adesso un metodo un po' differente e sfruttando le curve quindi andiamo su quest'altra immagine ovviamente il colore predominante di questa immagine sarà sicuramente l'azzurro scopriamolo facendo questo ci facciamo quindi una copia con command o control j control o command più clic sul livello filtro, sfocatura, media e otteniamo quindi questa sorta di azzurrino ci andiamo a campionare il colore quindi pennello alt click andiamo qui al lato e semplicemente copiamo il codice torniamo su paleton chiudiamo qui la schermata incolliamo la nostra base e quindi questa è la nostra base adesso possiamo ovviamente spostarci i colori quindi vogliamo aggiungere del verde e del viola all'immagine stessa ovviamente lavoriamo a tre colori perché sfruttiamo il colore base e poi il colore da applicare dalle ombre alle alte luci ma con la mappa sfumatura possiamo anche aggiungere dei colori intermedi quindi semplicemente in questo caso potremmo andare a spostare l'unica cosa non il colore opposto perché ovviamente ci sta bene l'arancione col blu ma possiamo spostare i colori adiacenti e quindi tenendo premuto il tasto shift poi possiamo applicare diciamo più colori alla stessa immagine questo ci comporterà appunto l'utilizzo di una mappa sfumatura semplicemente con più punti intermedi e quindi andremo a dare un colore ai mezzi toni un colore alle alte luci un colore a quelle che sono le ombre cosa che in realtà mi sconsiglio di fare perché diciamo che il valore dei mezzi toni che andiamo a considerare è semplicemente il valore predominante della fotografia stessa quindi torniamo a considerare la triade e mettiamo caso che ci stanno bene questi colori quindi abbiamo questa sorta di magenta e questa sorta di verde vado come prima ad aumentarmi la saturazione di qualche colore giusto per avere delle opzioni e qualcuno me lo rendo un po' più scuro quindi mi sta bene questa palette colori me la esporto come prima come png me la esporto quindi sul desktop torno sul mio photoshop mi incollo quella che è l'ultima paletta che ho realizzato e vediamo quindi cosa possiamo fare adesso se prendiamo la paletta la spostiamo un attimo qui in alto un livello di regolazione curve quindi vi mostro un metodo differente creiamo le curve andiamo ad ingrandire così vedete meglio e semplicemente se adesso io ovviamente devo selezionare il livello proprietà delle curve altrimenti lavoro sulla maschera e non funzionerà bene vado a fare un doppio clic su quella che è il campionatore per le ombre dell'immagine e come potete vedere io sto scegliendo un colore che andrò a destinare alle ombre dell'immagine e quindi che colore vogliamo dare alle ombre magari diamo non so questo il verde è scuro o no questo verde è un po' più chiaro ok ci sta bene adesso intendete salvare i nuovi colori di destinazione come predefiniti mettete no perché altrimenti ogni volta dovete andare poi a ripristinare i colori in default come faccio a sapere quali sono le ombre della mia fotografia mi creo semplicemente un selezione intervallo colori e vado qui in seleziona invece di colori campionati mi imposto le ombre e come potete vedere mi sto quindi andando a selezionare con intervallo tutte le ombre della fotografia ad esempio in questo punto noi abbiamo un'ombra con il campionatore attivo tengo premuto il tasto shift e mi vado a creare un campionatore che presta sull'immagine così da ricordarmi che queste sono le ombre facciamo la stessa cosa per le luci ovviamente sappiamo che le luci sono sicuramente presenti qui sul cielo e mi vado a creare un altro campionatore e premo a nulla perché ovviamente ho visto ciò che mi serviva e non devo applicare nulla all'immagine torno quindi sul livello di regolazione delle curve torno quindi ovviamente a definire quella che è il colore per l'ombra e abbiamo visto che il valore dell'ombra è questo qui do un ok non salvo il colore però adesso vado a premere sul campionatore e sto applicando come vedete il verde a quello che è la zona di tutte le ombre presenti all'interno dell'immagine adesso devo semplicemente andare a fare la stessa cosa con quelle che sono le alte luci quindi semplicemente doppio clic alle alte luci che colore vogliamo impostare questo magenta o magenta ancora più chiaro va benissimo ci sta bene questo colore selezioniamo ok selezioniamo no per non salvare il colore disabilitiamo il livello curve e il livello sfondo ma andiamo a campionare qui il nostro colore disabilitiamo il livello curve come potete vedere stiamo applicando quindi alle luci quello che è il colore magenta che avevamo scelto e alle ombre il colore verde semplicemente adesso come prima possiamo scegliere luce soffusa i nostri vari metodi sperimentati cercate di giocare con i valori luce lineare ad esempio possiamo aumentare il colore all'interno dell'immagine come potete vedere quindi stiamo applicando una color correction da una palette che in realtà abbiamo scelto noi e questo ci permette appunto di andare ad essere creativi in maniera infinita ovviamente con i colori potete sempre scegliere diverse sfumature valori di luminosità eccetera poi ovviamente potete sempre comunque continuare a cambiare il colore poi andandolo a spostare e semplicemente campionando quello di nuovo che è il colore così da avere un effetto leggermente diverso come potete vedere in questo caso ho schiarito quello che è il colore questo mi è andato a rimuovere del colore dalle alte luci perché appunto schiarendo andiamo a rimuovere il colore scurendolo andiamo ad aggiungere quindi questo era un altro metodo per affondere un colore una color correction all'interno di un'immagine vediamo adesso sull'ultima fotografia sicuramente il colore di questa fotografia predominante sarà quello che è un grigio ma mettiamo caso che noi vogliamo lavorare su ombre, mezzi toni e luci come abbiamo detto prima quindi andiamo su paletton e non impostiamo alcun colore di partenza bensì mettiamo che il nostro colore di partenza ad esempio risettiamo innanzitutto quello che è il colore di paletton diamoci una triade di colore il colore principale quindi è ad esempio questo azzurrino che mi piace molto e poi semplicemente spostiamoci gli altri colori quindi consideriamo il giallo, il magenta e l'azzurro che secondo me stanno molto bene insieme e diamoci ovviamente diciamo delle opzioni spostandoci un po' quelli che sono i colori stessi quindi abbiamo colori più chiari e luminosi colori più scuri adatti alle ombre appunto andiamo come sempre ad esportarci la tavola in png ritorno su photoshop mi trascino la color correction all'interno dell'immagine e la posiziono qui in alto al centro così la vedete per bene adesso cosa facciamo? in questo caso dobbiamo per forza utilizzare la mappa sfumatura perché ovviamente dobbiamo andare ad applicare più correzioni all'immagine premiamo due volte sulla mappa sfumatura e si apre così la mappa sfumatura andiamo a impostarci il valore delle ombre quale valore e quale colore vogliamo impostare alle ombre? io direi di applicare questa sorta di come lo possiamo definire? un colore petrolio molto scuro no? quindi ci sa questo colore ma siccome è molto molto scuro lo schiarisco leggermente altrimenti non avrà alcuna valenza all'interno dell'immagine e diamoci un ok per questo colore adesso andiamo a impostare il valore delle alte luci quale vogliamo impostare? impostiamo ad esempio il giallo come valore delle alte luci magari un colore non troppo forte ci sta bene questo ma lo vado a schiarire leggermente e diamoci un ok adesso dobbiamo darci un valore per quanto riguarda i mezzi toni semplicemente vado sull'indicatore delle ombre o delle luci la stessa cosa e premo il tasto alt e lo trascino verso il centro così da crearmi un punto per i mezzi toni adesso premo su questo colore e vado a darmi il colore magenta che vogliamo appunto dare ai mezzi toni per esempio prendiamo questo colore magenta ma riduciamo leggermente la saturazione dato che mi sembra troppo acceso abbiamo quindi creato questa mappa sfumatura personalizzata e possiamo anche definire su questa mappa ricordiamoci che i valori vanno da 0 a 255 quella che è la pesantezza del colore sui vari valori quindi semplicemente se io voglio che il magenta venga applicato da un valore di 0 ad esempio a questo valore e questa è la zona delle ombre per esempio poi voglio che ad esempio sulla zona delle luci mi venga applicato più giallo piuttosto che il magenta mi vado a garantire la mia sfumatura do un ok ho creato la mia mappa sfumatura e la fondo ad esempio in luce soffusa posso fonderla in tonalità posso fonderla con altri metodi di fusione appunto questo poi dipende da voi mettiamo caso che vogliamo un luce lineare abbassiamo ovviamente l'opacità altrimenti avremo un effetto troppo forte come potete vedere quindi stiamo applicando la nostra color correction all'immagine che però risulta essere diciamo troppo marcata quindi semplicemente torniamo sulla nostra mappa sfumatura che avevamo creato e andiamo a modificarci i valori che stavamo utilizzando prima quindi semplicemente me la vado a sfumare leggermente di più dato che era troppo dura e poi posso applicarla alla mia immagine ovviamente sempre senza esagerare vedete la color correction c'è ma non è marcata perché se appunto l'applicassi in maniera normale e l'aumento va ovviamente dipende anche dai colori che scegliete in questo caso l'immagine veramente è molto forte quindi non può predominare in questo modo all'interno dell'immagine bensì semplicemente però sto utilizzando la color correction che appunto va sempre utilizzata in maniera molto lieve all'interno di un'immagine solamente perché l'immagine iniziale è questa non vuol dire che questa deve essere la color correction che applicheremo sulla fotografia bensì appunto ci riduciamo l'opacità lavoriamo sempre tra il 15 e massimo il 25-30% e vedete che appunto abbiamo la color all'interno dell'immagine stessa poi ovviamente possiamo aggiungere livelli di curve eccetera per aumentare un po' quello che è l'effetto che abbiamo ottenuto e questa quindi può essere una color correction carina per questa immagine soprattutto una color correction omogenea una color correction che è in sintonia con tutti gli altri colori presenti all'interno dell'immagine come vedete non c'è nessun colore che predomina nessun colore che dà all'occhio o meglio c'è una sorta di magenta a barra rosso però comunque sta bene in tutto il contesto possiamo lavorare anche in maniera selettiva rispetto a luci e ombre quindi non avere una sola mappa sfumatura bensì avere il colore applicato sull'immagine in maniera selettiva cosa possiamo fare? possiamo agire con la mappa sfumatura che in realtà è un po' più complicato semplicemente andiamo ad utilizzare il valore di tinta unita quindi campioniamo il colore che vogliamo assegnare alle ombre poi creiamo un altro livello tinta unita campioniamo il colore che vogliamo assegnare alle luci e adesso andiamo a lavorare con la fusione con il sottolivello quindi se questo lo vogliamo assegnare alle luci dobbiamo escludere tutta la zona delle ombre ci trasciniamo quindi il puntatore da sinistra verso destra e gli diciamo ok queste sono le alte luci lo sfumiamo premendo il tasto alto e trascinandolo leggermente quindi ci facciamo la nostra selezione diamo un ok disabilitiamo questo abilitiamo il magenta che era per le ombre quindi semplicemente facciamo l'opposto escludiamo le luci e stiamo considerando le ombre andiamo a sfumarci quella che è la considerazione appunto delle ombre diamo un ok abbiamo quindi la nostra color vedete applicata all'immagine adesso non dobbiamo che andare a fondere la semplicemente luce soffusa ad esempio è luce soffusa all'interno dell'immagine questa è la nostra color possiamo lavorare in maniera selettiva tipo se vogliamo ridurre comunque il magenta dalle ombre ma avere più giallo nelle luci possiamo semplicemente farlo possiamo avere le ombre fuse in maniera differente quali può essere ad esempio luce lineare quindi avere comunque un'accentuazione maggiore di quello che è il colore stesso e questa quindi è anche un altro metodo per lavorare in maniera selettiva con la color collection quindi vedete il prima e il dopo spero che questo video sia stato chiaro e semplice da capire vi assicuro comunque che se provate questi metodi sicuramente sarà molto più semplice piuttosto che vederlo fare da me davvero sono pochi e semplici passaggi fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate? noi ci vediamo in un prossimo appuntamento vi ricordo di lasciare mi piace a questo video e di iscrivervi al mio canale per supportarmi e soprattutto di seguirmi sui miei social personali quali Instagram e Facebook linkati qui sotto in descrizione dove appunto possiamo avere un contatto un po' più diretto un saluto a tutti ciao